Grazie 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 And as for me, oh, and as for me I made my mind up, begging to see When I go, I'm going like hell, see Stop by admitting from cradle to doom It isn't that long a stay Life is a cabaret charm It's only a cabaret charm And I love a cabaret It's only a cabaret charm Musica Sono particolarmente felice ed orgogliosa che proprio dalla nostra splendida Venezia partano le riprese del progetto Aurora. Uno show che prenderà avvio in tutto il 2022, che avrà come obiettivo la raccolta fondi per la ricerca sulla fibrosicistica. Anche l'amministrazione comunale di Venezia ha voluto essere presente. Siamo io, Silvia Peruzzo Meggetto, il consigliere collega Aldo Reato, a supporto e a sostegno per la raccolta fondi e per cercare di sensibilizzare e di informare il più persone possibili su questa terribile malattia. Ringrazio di cuore la fondazione per la ricerca sulla fibrosicistica ONLUS, l'associazione Round Table Venezia e Italia, con la quale collaboro sempre molto volentieri, L'associazione Gondolieri di Venezia, di cui il collega Reato è un esponente e sono davvero felice che questo progetto sia giunto a conclusione. La ricerca ha ancora tanta strada da fare, però ogni passo che viene fatto in più è un passo in più di vita. Grazie a tutti.